Ti invito ad andare alla parola di Dio, la Bibbia, per vedere Dio per come è veramente, non ciò che altri hanno detto di lui, ma piuttosto ciò che Egli ha detto e rivelato su se stesso. Vai avanti e tuffati, più in profondità, sotto la superficie delle teorie e della speculazione. Metti alla prova le promesse di Dio, sperimentalo tu in prima persona, e ti prometto che se verrai con una mente aperta e un cuore alla ricerca che desidera sinceramente la verità, la troverai e scoprirai che niente su questa terra verde o nel profondo mare blu può essere paragonato a conoscere la verità sul saggio meraviglioso di ogni potere.